Maurizio Battista Un uomo che sa domare il palco perché per tanti anni... Un uomo che sa mi bastava. Però poi ci hai messo altro. Lo faccio con grande gioia, amore, passione perché mi piace tanto, mi piace, spiego in due parole, mi piace l'interazione col pubblico, mi piace stare insieme, mi piace cambiare ogni sera perché non mi ricordo quello della sera prima, te dico proprio la verità. Mi piace farlo in un certo modo, con i miei colori e la mia cifra. È un modo, penso sia, poi ti lascio parlare pure a te, molto personale. Prego, Luciano. Grazie Maurizio. Allora potremmo anche dire che da questo punto di vista ti piace naturalmente avere a che fare con il pubblico, ma questa storia che nasce tutto anche da quello che è un bar, è vera? Come no? No, no, no. Parlo degli amici della vostra bellissima emittente. C'è chi ha fatto arte drammatica, c'è chi ha fatto le scuole dei grandi attori, c'è chi ha fatto, giusto? C'è chi ha fatto actor studio. E Maurizio Battista ha fatto il bar. Da quando sono nato, perché mio padre era al bar, gli altri avevano un ristorante, ho sempre frequentato il pubblico. Sempre in questa chiave, simile a quello che faccio qua, perché qui faccio il bar senza bancone. Che è un po' più difficile. Sì, sì, difficile, anche più facile, perché hanno pagato un biglietto. Cioè hanno scelto. Hanno scelto. Di consulenza, io ho usato quella tecnica con dei miglioramenti, delle tecniche, esperienza, chiamavano le pare, per arrivare a quello che vedremo qui stasera, che abbiamo visto ieri a Montecatini, venerdì a Firenze. I risultati molto alti, come risate, perché a me mi interessa il numero di... La gente viene qui stasera a Grosseto per divertirsi. Non per sentire un santone, un filosofo, uno scienziato, un genio. C'è una persona che li fa ridere con le cose della vita quotidiana, della mia vita quotidiana, che so più delle tue, perché tu hai X anni e io ce n'ho molti di più. Perché io tengo la bar. Tu? Io tengo la bar. E allora stai peggio. No, perché avendo più anni di te c'ho più cose da raccontare, perché racconto noi, racconto me. Non vengo qui a fare a Filippi Casuapolitica, a Filippi Casuicocci, a Filippi... No, siamo qui due ore, due ore e mezzo per divertirci. Insieme a Maurizio Battista. E insieme a loro. Perché io sono in questa sala il peggiore di tutti. Mi metto a nudo, simpaticamente. No, proprio a nudo perché è nudo, è proprio uno spettacolo, lo dico perché per avvertire pure i bambini. Possono venire allo spettacolo anche loro. Sì, perché è un nudo così, però poi vengo che sì. No, 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 c'ho perizoma. E però questa è la formula per me, con le mie tecniche, vincente. Poi ognuno ha il suo modo di fare l'intervista, il comico, il cantante. Io lo faccio in un modo molto naif, genuino, senza polifosfati, alla matriciana. E questo, ringraziando Dio, trova un grande riscontro in una gran parte d'Italia. Tra l'altro l'elemento in comune tra il bar che diciamo prima e lo spettacolo, i tuoi spettacoli, è spesso la lettura dei giornali, dei quotidiani. È un elemento che è davvero... Bravo Luciano, perché io nasco ufficialmente, nasco ufficialmente, nasco con Cartaceo. Iniziai con Porta Portese, che è un giornale, lo dico agli amici di Marmè, tipo Seconda Mano, un giornale di annunci gratuiti e leggevo i sfonnoni, sfonnoni in romano, cose paradossali e questo faceva ridere. Poi mano a mano le cose sono aumentate, mi vado a internet, a me mi arrivano 20-30 annunci al giorno e adesso è una parte dello spettacolo, un 10%, il 90 è diventato altro. Però c'è sempre sul palco, la signorina Gentile può inquadrare, la parte di giornali, di Cartaceo, eccetera, eccetera. Io pur da non sta casa con mia moglie faccio il stessi cosa, sappila sta cosa. Se c'è un torneo di Briscola qui, io vengo, ho capito? Special guest Briscola Maurizio Battista. Vedremo di contattare anche Burraco. Non lo so fare ma mi imparo, mi imparo proprio da non sta a casa. Perché io quello che faccio qua sopra, vedrai dopo stasera, c'è la gioia, c'è il divertimento, pur avendo da stamattina un mar di testi problemi a casa, c'è problemi come tutti quanti. Però so che queste tre ore è il mio momento di piacere. Ti racconto una piccola simpatica esclusiva, ma io faccio questo da amante, perché dal bar mi piaceva questa cosa, ma arrivare a stare qui a parlare con voi, qui poi andare a Firenze, andiamo a Milano tre giorni, è un miracolo, al Sistina tre anni, è un miracolo. È un miracolo come lavorare con dei personaggi che io vedevo da bambino in televisione, e te ne cito uno del mese scorso, è il terzo anno che sta con me in vari momenti, Silvan. Io nell'altro spettacolo a dicembre, 42.000 presenze in 24 giorni, c'erano mezz'ora su tre ore di Silvan, con le ballerine, grandi illusioni. Non è tanto le grandi illusioni di Silvan, che era un momento veramente di nostalgia per molti di noi, di meraviglia, ma dico, ragazzi, ma con me, insieme a me, su uno spettacolo mio, sta lavorando Silvan, che è un simbolo mondiale. Silvan quando va a Las Vegas, che ci stanno gli altri, si alzano in piedi. È Silvan, bravissimo, è Silvan. Io lo vedevo tra mia madre e mio padre a letto da bambino, e c'era Silvan con scala 40 in televisione. E' stato un mese con noi al teatro, capisci? Non ci credi, potresti non crederci. A fine serata, questa sera, dopo due ore e mezzo, io scendo lì, mi metterò qua, vediamo un po' che è un po' e rimango un'ora, foto, abbracci, cose, perché, lo dico al pubblico, posso riferirmi, mi permetti? Assolutamente sì. Diffidate degli artisti, in generale, comici, canta, quello che vi pare a voi, che a fine serata, in qualche modo non vi danno qualcosa indietro, un abbraccio, una stretta di mano, non gli date troppa gioia a sta gente, perché voi siete migliori, perché per venire al teatro, e molti lo sanno, devi prendere un biglietto i giorni prima, devi venire alle nove, devi parcheggiare, questo vale per tutti i tagli, le problematiche sono le stesse. Non si paga 8 euro, 7,5 euro, pensavo che era 25, 35, ma non ho un'idea, giusto? Moglie e marito sono 60, 70 euro, perciò la gente ci ha messo tutto il loro, la voglia di venire. E tu a fine spettacolo, pietre ne vada là, non mi pare carino, perciò diffidate di chi si finge amico vostro, chi è amico vostro lo deve dimostrare, non dico scendere qui perché scendere come faccio io, serve il coraggio, serve che dopo due ore e mezzo, scendere un'altra ora qui, braccia a braccia, battutine, serve il fisico. Assolutamente sì. Non dico questo, ma neanche scappà, perché voi quando siamo di qui o all'Alto Teatro, non siete scappati, siete venuti, avete faticato, insomma, ci sarà gente qui, non sono tutti i briatori, ci sarà gente che quei 70 euro, moglie e marito, gli peseranno, però sono venuti e te li hanno dati, perciò diffidati, su questa cosa sono severo, non c'ho rispetto per nessuno, perché il pubblico è la parte sana dello spettacolo. Vieni in buona fede, infatti qualcuno mi ha detto prima la battuta che hai fatto prima, no? Che dicevi? Quella cosa, io scherzando ti rispondo, perché io non credo alle frasi di qualche collega, non c'ho colleghi, perché io faccio una talmente strana, che non so come si può chiamare un collega mio, c'era un pubblico di M puntato puntato, giusto? E non esiste un pubblico M puntato puntato, esiste l'artista che fa uno spettacolo di M puntato puntato, perché il pubblico fa il pubblico, uno che viene qui, ha preso il biglietto, non viene in malafete, o non viene con i bracciati così, viene già a cuore aperto. Poi se tu, nel caso del comico, non lo fai ride, il problema non è del signor Mario, il problema è il tuo, che non hai, se sei messo in sintonia, oppure quello che dici in far ride, c'è pure questo, no? Assolutamente sì. Ecco, apposta dico, questo signore, Mario, Lucia, chi saranno? Io non so se ci vedrà qua stasera. E questo che fa? Ha preso il biglietto, ha parcheggiato, è venuto, l'ha pagato un mese fa, tutto quanto che deve fare di più? Ti portano la cena? Sbaglio? No, se porta una torta, accettiamo, non è che gli arido indietro. Anzi, se qualcuno porta una torta, con l'occasione, però su questa cosa ci tengo molto. Capito? Io per esempio, per me chi vuol fare il video, chi vuol fare, lo vuol fare tranquillamente. Quindi non c'è da fare signore il telefono a ingresso? No, non c'è. C'è il telefono a ingresso? Non c'è. Ti spiego subito il perché. Questa è una mia tesi, un po' ardita. Vi rubo un minuto, poi non vi faccio un chiacchierone. Siamo tutti per te. No, spiego, molta gente, qualcuno mi dice, ma un pezzo dello spettacolo l'ho visto. Ormai c'è comedy, c'è YouTube, giusto? Assolutamente sì. Giusto. I telefonini, metti che qui, 600 persone, metti 10 telefonini, un pezzo uno, un pezzo un altro, giusto? Lo spettacolo, in teoria, l'hai visto. Ma quello che manca sei tu. Bravo Luciano, mi piace per questo. Hai fatto la sintesi di quello che voglio dire io. è un'altra cosa, vederlo lì su comedy, io sono un fornitore di Sky, uno dei più grandi di comedy e con grandi risultati. YouTube, se no bloccherei, no? Bloccherei il video. Fate quello che vuole. Il plus valore non è la storia che tu hai sentito e non sentito, perché se tu vuoi sentire Ugini da Campagna vuoi sentire Anima Mia. Se te fa Anima Mia ha rovinato la serata. Quando vengono qui vogliono sentire dei, chiamamoli classici, umilmente, dei pezzi storici. Siccome dura due ore e mezzo, c'è un'oretta e un quarto, nuova, nuova e un'oretta e un quarto che tu già conosci. Però c'è il plus valore, bravo Luciano. Allora devi compierci i diti di Vasco Rossi, 30 euro te lo senti a casa. Perché vai al concerto a spendere 100 euro? Perché c'è Vasco Rossi. Qui è uguale, ma non perché so io. C'è l'artista, c'è sta la battuta, c'è quello, c'è l'inconveniente, c'è sta... Questo è il plus valore. Dal vivo, perché c'è uno dal vivo. Dici, no, ma io ho visto su YouTube. Ma stai su YouTube col telefonino, è una cosa impersonale, non è quello. Hai detto, Benedetti, non ci sei tu, non io, ma non ci siamo noi. E poi vuoi mettere, togli anche il piacere di averti a disposizione per poterti abbracciare a fine spettacola. No, io rimango qui, faccio vedere le foto dopo quando finisce. Noi, nell'altro spettacolo, diamo, quando siamo un mese a Roma, perché qui, certo, non si poteva fare, 20.000 libri, 800-900 libri al giorno insieme agli assistenti. Li filmiamo, il bacetto, la gente è battuta, tagliati i capelli. Questo è un altro pezzo di spettacolo che su YouTube o su comedy con tutto il piacere non ce l'hai. Assolutamente sì. E se non ti piace il CD, devi dire la zero, Vasco Rossi, lì a bui, tu entri a casa e hai poppa corno, ti metti là sul divano. Ma non è la stessa cosa. E quando un artista ti fa uno spettacolo nuovo di due ore e mezzo, ti do un consiglio, non c'è andare. Perché sicuramente due ore sono fallimentari. Perché i pezzi, come tutte le cose, come le ricette di tua nonna Maria, vengono, migliorano facendole, diciamo, come le interviste, Luciano. Ogni giorno diventi un po' più bravo. E uguale qua, il pezzo mano a mano monta. No, sei bravo diventi ancora più bravo. L'esperienza, il pezzo aumenta e il pezzo può darsi che bello bello diventa tra sei mesi. Non esiste una cosa vecchia. Cioè, la nonna di Beethoven, oh, ho sentito, infatti io a metà a un certo punto verso le due ore, chiedo, verso le due ore, che pezzi volete? Gruppo A stasera, gruppo B e gruppo C. I pezzi che chiedono, che durano un'altra tre quarti d'ora. Io te li firmo già quali sono, ti dico stasera, vai a una prova, ti dico quali sono. Sono quelli che loro hanno nel cuore che condividono con me la storia del matrimonio. Maurizio, sei un po' un amico di famiglia, quasi un cugino. È per questo che... Possiamo chiudere l'intervista con un'osservazione che mi ha fatto un signore che sintetizza tutta questa cosa. Bella. Usando una parola carina. Ci mi sembra di stare, stare a vedere il mio dirimpettaio di casa. Perfetto. Perché tu mi hai detto che io voglio stare al Bolshoi? Io voglio essere un amico tuo del bar, divertente, stiamo qui a divertirsi. Non è che esci da teatro qui moderno di Grosseto, esci e dici quante cose mi sono imparato con Battista. Non so più. Ma no, anzi, ti perdi pure qualcosa che già sai. con me. Esci pure smarrito, giusto o no? Vieni qui per divertirti. La vita è tutto un crescendo. È tutto un scoprire. Non me l'aspettavo. Mi auguro tante cose belle. Capitano pure le cose negative. È chiaro, no? La vita è anche questo, purtroppo. Però è sorprendente. Ogni giorno mi alzo. io non avevo pensato che alle sei e mezza di oggi stavo con Luciano. Se non anche ci venivo, se devo dirla tutta, se lo sapevo. è un piacere, è una gioia. Posso salutare i tuoi spettatori? Un saluto agli amici di Maremma TV. Ah, Maremma ti stavo di un'altra cosa. amici di Maremma TV, grazie, io scherzo. Ciao a tutta Pistoia. Sì, anche Prato e Firenze e la parte e zone di Mitro. E ricordate sempre pigia, 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 vero? L'importante è pigiare.